il velo nero del pastore hitworth sotto il portico della chiesa di milford il sagrestano era facendato a tirare la corda della campana i vecchi del villaggio giungevano curvi lungo la strada i bambini coi visetti luminosi sgambettavano allegramente accanto ai genitori o imitavano un'andatura più seria consapevoli della dignità dei loro abiti domenicali i giovanotti attillati sbirciavano le belle ragazze e pensavano che il sole domenicale le rendeva più graziose che nei giorni di lavoro quando la folla si fu in gran parte riversata sotto il portico il sagrestano cominciò a suonare a rintocchi tenendo lo sguardo fisso sulla porta del reverendo signor cooper il primo apparire della figura del sacerdote era il segnale che faceva cessare il richiamo della campana ma che cosa sul viso il buon parroco cooper esclamò il sagrestano meravigliato coloro che poterono udirlo si volsero immediatamente e videro il reverendo cooper che con andatura penosa si dirigeva lento verso la chiesa quasi di comune accordo trassalirono mostrando più meraviglia che se un pastore sconosciuto fosse venuto a spolverare con la sua persona i cuscini del pulpito del reverendo cooper siete sicuro che sia proprio il nostro parroco si informa mastro gray dal sagrestano ma certo che il buon reverendo cooper rispose il sagrestano doveva scambiare il pulpito col parroco schutt di westbury ma ieri il reverendo schutt mandò le sue scuse perché doveva pronunciare un sermone funebre la causa di tanto stupore può sembrare abbastanza futile il reverendo cooper persona signorile di circa 30 anni sebbene ancora scapolo vestiva con la semplice eleganza che si addice a un sacerdote come se una moglie premurosa gli avesse inamidato il colletto e spazzolato la polvere della settimana dall'abito domenicale una sola cosa nel suo aspetto aveva un netto risalto avvolto intorno alla fronte da cui scendeva a copergli in parte il viso e così in basso da muoversi con l'alito il reverendo cooper portava un velo nero visto più da vicino quel velo sembrava consistere in una doppia striscia di crespo che nascondeva del tutto i lineamenti lasciando scoperti solo la bocca e il mento ma probabilmente non impediva la vista limitandosi a dare un'apparenza oscura a tutte le cose animate con quell'ombra triste dinnanzi agli occhi il buon reverendo cooper camminava a passo lento e tranquillo un po curvo e con lo sguardo a terra come è d'abitudine degli uomini assorti salutando gentilmente col capo quelli dei suoi parrocchiani che ancora attendevano sugli scalini della chiesa ma essi erano così stupefatti che ricambiarono appena il suo saluto non riesco davvero a convincermi che dietro quel pezzo di crespo ci sia il viso del buon reverendo cooper disse il sacrestano non mi piace borbottò una vecchietta nell'entrare zoppicante in chiesa ha preso un aspetto terribile solo per essersi nascosto il viso il nostro parroco è impazzito esclamò mastro gray varcando la soglia dopo il pastore la voce di un fenomeno inesplicabile aveva preceduto in chiesa il reverendo cooper e aveva messo in agitazione l'intera congregazione pochi riuscirono a trattenersi dal volgere il capo verso la porta molti si alzarono in piedi e si voltarono con tutta la persona mentre parecchi bambini si arrampicarono sui sedili ridiscendendone poi con grande fracasso sudiva un tramestio generale un frusciare di sottane delle donne e uno scalpiccio di piedi degli uomini in vivo contrasto col tacito raccoglimento che dovrebbe accompagnare l'ingresso del sacerdote ma il reverendo cooper non sembrò badare al turbamento dei suoi fedeli entrò con passo quasi silenzioso abbassò benevolmente il capo verso i banchi ai due lati e fece un inchino nel passare accanto al più anziano dei suoi parrocchiani un vegliardo canuto che occupava una poltrona al centro della navata fu strano vedere con quanta lentezza quel uomo venerabile si accorse che nella figura del suo pastore vi era qualcosa di insolito non sembrò partecipare pienamente della sorpresa generale prima che il reverendo cooper salita la scaletta si fosse mostrato sul pulpito a faccia a faccia con la congregazione da cui lo separava solo il suo velo nero quell'emblema misterioso non fu sollevato neppure una volta si mosse col respiro misurato del pastore quando egli recitò il salmo interpose la propria ombra fra gli occhi e la sacra pagina quando lesse la bibbia e quando egli pregò il velo ricadde cupo sul volto sollevato cercava forse il pastore di nascondere il suo viso dall'essere temuto cui si rivolgeva tale fu l'effetto di quel semplice pezzo di crespo che più di una donna delicata di nervi fu costretta ad uscire dalla chiesa ma i fedeli con i loro volti pallidi erano forse per il pastore uno spettacolo pauroso quanto per loro il suo velo nero il reverendo cooper aveva fama di essere un buon predicatore ma non molto energico cercava di condurre i suoi parrocchiani alla via del cielo con una influenza mite e persuasiva invece di trascinarveli coi fulmini del verbo la predica che pronunciò in quell'occasione fu improntata alle medesime caratteristiche di maniera e di stile proprie di tutta la sua oratoria sacra ma vi era qualche cosa o nel sentimento del discorso o nell'immaginazione degli ascoltatori che rese quel sermone lo sforzo oratorio di gran lunga più potente che essi avessero mai udito dalle labbra del loro pastore era soffuso forse più intensamente del consueto della dolce mestizia propria del temperamento del reverendo cooper formavano l'argomento i peccati intimi quei tristi segreti che nascondiamo alle persone più vicine e più care e vorremmo nascondere anche alla nostra coscienza cercando perfino di dimenticare che l'onnisciente può scoprirli un sottile potere spirava nelle sue parole ogni membro della congregazione dalla fanciulla più innocente all'uomo di cuore più indurito ebbe la sensazione che il predicatore si fosse chinato su di lui sotto il suo pauroso velo e avesse scoperto la riposta iniquità dei suoi atti o pensieri molti si serrarono al petto le mani giunte non c'era nulla di terribile in ciò che diceva il reverendo cooper o almeno nulla di violento eppure ad ogni vibrazione della sua melanconica voce gli ascoltatori tremavano una emozione non voluta si univa al timore così acutamente tutti avvertivano una qualità insolita nel loro pastore da desiderare che un soppio di vento sollevasse il velo quasi immaginando che sarebbe apparso il volto di un estraneo sebbene la figura i gesti la voce fossero proprio del signor cooper al termine della funzione religiosa i fedeli uscirono in fretta con indecorosa confusione nell'ansia di comunicarsi il rattenuto stupore e si sentirono sollevati appena non videro più il velo nero alcuni si riunirono in piccoli crocchi stringendosi vicini e tutte le bocche rivolte al centro sussurravano altri si avviarono soli verso casa assorti in silenziosa meditazione altri ancora parlavano a voce alta profanando il giorno del signore con crisi ostentate qualcuno scuoteva la testa sagace lasciando intendere di aver penetrato il mistero mentre pochi affermavano che non vi era nessun mistero e semplicemente gli occhi del signor cooper indeboliti dalle lunghe veglie avevano bisogno di oscurità quasi subito anche il buon signor cooper uscì dalla chiesa dietro al suo gregge volgendo il capo velato da un gruppo all'altro rese il debito omaggio ai più anziani salutò gli adulti con gentile dignità come loro amico e guida spirituale sorrisse giovani con un misto di autorità ed affetto e posò la mano sul capo dei più piccini per benedirli come era solito fare ogni domenica la sua cortesia fu ricambiata da occhiate strane e perplesse nessuno mostrò di aspirare come altre volte all'onore di camminare al fianco del suo pastore il vecchio giudice sanders certo per una dimenticanza involontaria trascurò di invitare il signor cooper alla sua tavola dove il buon sacerdote era solito benedire il cibo quasi ogni domenica dal giorno del suo insediamento egli se ne tornò dunque alla parrocchia al momento di chiudere la porta fu veduto voltarsi a guardare i fedeli che erano rimasti tutti con gli occhi fissi su di lui un mesto sorriso trasparì da sotto il velo nero alleggiando sulle labbra in un barlume mentre egli scompariva è strano disse a una signora che un semplice velo nero quale ogni donna potrebbe portare sul cappello diventi una cosa così terribile sul viso del signor cooper certamente il signor cooper non deve godere più di tutte le sue facoltà mentali osservò suo marito il medico del villaggio ma l'aspetto più strano di tutta la faccenda è l'effetto che produce questa stravaganza anche su un uomo di mente equilibrata come me quel velo nero non copre che il viso del nostro pastore eppure fa sentire il suo influsso su tutta la sua persona e lo rende simile a un fantasma dalla testa ai piedi non hai anche tu questa impressione davvero sì rispose la signora e per nulla al mondo vorrei trovarmi sola con lui mi meraviglio che non abbia paura di stare solo con se stesso gli uomini a volte sono fatti così disse suo marito nel pomeriggio il servizio divino si svolse in circostanze analoghe al termine la campana suonò a rentocco per il funerale di una giovinetta i parenti e gli amici si erano riuniti a casa e i conoscenti meno intimi aspettavano davanti al portone parlando delle buone qualità della defunta quando le loro chiacchiere furono interrotte dall'apparire del reverendo cooper sempre coperto del suo vero nero che era in quel momento un emblema appropriato il prete entrò nella stanza dove era deposta la salma e si chinò nella bara per dare un ultimo addio alla sua parrocchiana nel curvarsi il velo gli si scostò diritto dalla fronte in modo che se gli occhi della fanciulla non fossero stati chiusi per sempre ella avrebbe potuto vederlo in viso temeva forse il signor cooper il suo sguardo da che si accostò il velo sul volto con tanta precipitazione una persona che aveva assistito all'incontro fra il vivo e la morta non si fece scrupolo di affermare che nell'istante in cui i lineamenti del pastore erano rimasti scoperti il cadavere aveva leggermente rabbrividito facendo frusciare il sudario e la cuffia di mussola sebbene il viso serbasse la compostezza della morte una vecchietta superstiziosa fu l'unico testimone di questo prodigio dalla bara il reverendo cooper passò nella stanza dei parenti e di lì in cima alle scale per recitare la preghiera funebre era una preghiera tenera e struggente piena di dolore eppure così permeata di speranze celesti che sembrava di udire fra i più tristi accenti del pastore una fievole musica di un'arpa divina sfiorata dalle dita della fanciulla morta i presenti tremavano sebbene riuscissero a comprendere solo confusamente le parole del reverendo cooper che pregava finché essi e lui medesimo e tutta la progenia mortale si trovassero preparati come confidava si fosse trovata quella giovinetta per l'ora terribile che avrebbe strappato il velo dei loro volti i uomini che portavano la bara si avviarono faticosamente e il corteo seguì rattristando tutta la strada col feretro che procedeva e in ultimo il signor cooper nel suo velo nero perché vi voltate chiese alla sua vicina uno degli intervenuti mi è parso di vedere e lo rispose che il pastore e lo spirito della fanciulla camminassero per mano anch'io ho avuto la stessa sensazione nello stesso momento rispose l'altro quella sera la più bella coppia del villaggio di milford doveva celebrare il matrimonio sabene considerato di natura melanconica il signor cooper aveva in serbo per queste occasioni una placida letizia che spesso suscitava un sorriso di simpatia dove una più vivace regalienza sarebbe stata fuori posto era questa fra le sue qualità che più lo faceva amare la comitiva riunita per le nozze ne attendeva con impazienza l'arrivo sperando che lo strano timore addensatosi per tutta la giornata sulla sua persona si fosse ormai dissipato ma così non fu quando il signor cooper giunse la prima cosa su cui si posarono tutti gli sguardi fu quello stesso orribile veronero che aveva reso più profonda la tristezza del funerale e che non avrebbe potuto essere che un cattivo presagio per le nozze tale fu l'effetto immediato del velo sugli invitati che una nuvola parve svolgersi cupamente da sotto il crespo nero e oscurare la luce delle candele la coppia nuziale stava in piedi davanti al pastore ma le dita gelide della sposa tremavano nella mano agitata dello sposo e il suo pallore mortale fece sussurrare che la fanciulla sepolta poche ore prima fosse tornata dalla tomba per sposarsi se mai si celebrarono nozze così lugubri fu nell'occasione famosa in cui la campana nuziale suonò a morto dopo la cerimonia il signor cooper si accostò alle labbra un bicchiere di vino augurando ogni felicità ai novelli sposi in un tono di dolce cagliezza che avrebbe dovuto rischiarare i volti dei convitati come un'allegra fiammata del focolare ma proprio in quell'istante intravide la sua immagine in uno specchio e il velo nero irretì anche il suo spirito nell'orrore in cui opprimeva tutti gli altri un brivido gli scosse la persona le sue labbra divennero bianche versò il vino sul tappeto senza averlo assaggiato e si precipitò fuori nell'oscurità perché anche la terra si era avvolta nel suo velo nero il giorno seguente in tutto il villaggio di milford non si parlava che del velo nero del reverendo cooper il velo e il mistero che esso nascondeva diedero argomento di discussione agli amici che si incontravano per la strada e alle donnette che pettegolavano dalle finestre aperte fu questa la prima notizia che l'oste raccontò ai suoi clienti i bambini ne chiacchierarono andando a scuola uno di quei diavoletti dotato di spirito di imitazione si coprì il viso con un vecchio fazzoletto nero spaventando i suoi compagni di spaventando i suoi compagni di gioco a tal segno che egli stesso fu preso dal panico e per poco non svenne a causa del suo scherzo eppure di tutti i ficcanaso gli impertinenti della parrocchia non uno si arrischiò a domandare francamente al signor cooper perché egli si comportasse in quel modo fino allora alla minima opportunità per una simile ingerenza il pastore non aveva mai mancato di consiglieri ne si era mostrato contrario a lasciarsi guidare dal loro giudizio se mai gli accadeva di sbagliare ciò avveniva per una così dolorosa sfiducia in se stesso che la minima critica lo induceva a considerare l'azione più semplice come un delitto ma pur conoscendo così bene questa sua amabile debolezza nessuno dei suoi parrocchiani si decise a fare del velo nero l'argomento di una amichevole dimostranza provavano tutti un senso di timore non confessato apertamente ma nemmeno accuratamente celato che spingeva ognuno a scaricare la responsabilità su altri finché da ultimo si giudicò opportuno inviare una deputazione di membri della chiesa per discutere col signor cooper quel mistero prima che degenerasse in uno scandalo ma l'ambasciata adempì così male la sua missione il pastore li accolse con amichevole cortesia ma appena si furono seduti rimase in silenzio lasciando ai visitatori tutto il peso di affrontare la grave questione l'argomento della visita come si può bene immaginare era evidente il velo nero stava lì sempre avvolto intorno alla fronte del signor cooper nascondendo nei lineamenti al di sopra della placida bocca su cui a tratti essi vedevano alleggiare un melanconico sorriso ma nella loro immaginazione quel pezzo di crespo sembrava scendergli fino sul cuore simbolo di un pauroso segreto interposto tra lui e i suoi parrocchiani solo che il velo fosse stato sollevato essi avrebbero potuto parlarne liberamente ma non prima così rimasero seduti parecchio tempo muti confusi cercando nel loro disagio di sottrarsi agli occhi del signor cooper che sentivano fissi su di loro con uno sguardo invisibile finalmente la deputazione se ne tornò mortificata dai suoi mandanti e dichiarò che la questione era tanto grave e dichiarò che la questione era tanto grave da richiedere che la trattasse un consiglio delle chiese se non addirittura un sinodo generale una sola persona nel villaggio non era atterrita dalla paura che il velo nero aveva ispirato a tutti quando gli invitati tornarono senza una spiegazione senza nemmeno aver osato chiederla e la decise con la serena energia del suo carattere di dissipare la strana nube che sembrava addensarsi sempre più oscura intorno al signor cooper come sua promessa sposa aveva il diritto di sapere che cosa il velo nero nascondesse perciò alla prima visita del pastore e la entrò in argomento con una franca semplicità che rese il compito più facile per tutti e due quando si fu seduto e la fissò con fermezza gli occhi sul velo ma non riuscì a scoprirvi affatto quella terribile tristezza che aveva tanto intimorito la popolazione era solo un crespo doppio che gli pendeva dalla fronte fino alla bocca e si muoveva lievemente col respiro no disse ad alta voce sorridendo non vi è nulla di terribile in questo pezzo di crespo se non che esso nasconde un volto che sono sempre lieta di guardare via mio buon amico lasciate che il sole brilli da dietro le nuvole sollevate prima di tutto il vostro velo nero poi ditemi perché ve lo siete messo il signor cooper ebbe un tenue sorriso verrà il momento disse in cui tutti noi getteremo via il nostro velo non inquietatevi mia carissima se fino a quel giorno io continuerò a portare questo pezzo di crespo le vostre parole sono anch'esse un mistero rispose la giovane donna sollevate il velo almeno da esse lo farò elisabetta e gli disse per quanto il mio voto me lo consente sappiate dunque che questo velo è un emblema e un simbolo e io ho fatto voto di portarlo sempre nella luce e nell'oscurità nella solitudine sotto lo sguardo della folla al cospetto di estranei come in presenza degli amici più intimi questa ombra tetra deve separarmi dal mondo eppure voi elisabetta potete oltrepassarla quale grave dolore vi ha colpito e la chiese con ansia perché voi dobbiate così oscurare i vostri occhi per sempre è un segno di lutto rispose il signor cooper forse o anche io come la maggior parte dei mortali dolori abbastanza gravi per essere simboleggiati da un velo nero e se il mondo non vorrà credere che sia il simbolo di un dolore innocente insiste elisabetta per quanto siate amato e rispettato si potrebbe sussurrare che nascondete il vostro volto perché avete coscienza di un peccato grave per amore del vostro sacro ministero impedite questo scandalo il rossore le salì alle guance mentre insinuava la natura delle voci che già circolavano nel villaggio ma il reverendo cooper non perdè la sua dolcezza perfino sorrise di nuovo quel medesimo sorriso triste simile a un fievole barlume di luce che sorgesse dal buio dietro il velo se mi nascondo il volto per dolore non ne manca motivo si limitò a rispondere e se lo copro per un peccato segreto qual è il mortale che non potrebbe fare altrettanto e resiste a tutte le preghiere di elisabetta con la stessa ostinazione dolce ma irremovibile infine l'attacque per un momento parve perduta dietro ai suoi pensieri probabilmente si chiedeva quali nuovi modi potessero tentarsi per indurre il suo promesso sposo ad esistere da una così lugubre stravaganza che se non aveva altro significato era forse il sintomo di una malattia mentale sebbene elisabetta avesse un carattere più fermo che quello di lui le lacrime le colarono giù per le guance ma improvvisamente il dolore cedette a un sentimento nuovo i suoi occhi erano fissi inconsapevolmente sul velo nero quando simile a un improvviso crepuscolo nell'aria il terrore di quel velo cadde su di lei e la avvolse si alzò e rimase in piedi tremante dinnanzi al pastore lo provate dunque anche voi adesso e gli chiese con tristezza elisabetta non rispose ma si coprì gli occhi con le mani e si volse per uscire dalla stanza egli le corse dietro e le afferrò il braccio abbiate pazienza con me elisabetta esclamò con passione non mi abbandonate anche se questo velo dovrà stendersi fra noi due qui sulla terra siate mia e nella vita futura non vi sarà nessun velo sul mio volto nessun ombra fra le nostre anime è soltanto un velo mortale non è per l'eternità o voi non sapete come sono solo e come mi fa paura essere solo dietro il mio velo nero non lasciatemi per sempre in questa oscurità sollevate il velo solo una volta e guardatemi in viso e la rispose mai è impossibile replicò il signor cooper allora addio disse elisabetta liberò il braccio dalla sua stretta e uscì lentamente fermandosi sulla soglia per rivolgergli un lungo sguardo pieno di raccapriccio che parve quasi penetrare il mistero del velo ma pur nel suo dolore il signor cooper sorrise al pensiero che un semplice emblema materiale l'aveva separata dalla felicità sebbene gli orrori che esso adombrava dovessero interporsi cupamente fra gli amanti più appassionati da allora nessuno tentò più di indurre il signor cooper a togliersi il velo nero né di scoprire direttamente da lui il segreto che vi si supponeva celato le persone che pretendevano di essere superiori ai pregiudizi popolari lo consideravano come un semplice capriccio bizzarro quali spesso si introducono nelle azioni equilibrate di uomini abitualmente ragionevoli colorandole nella loro apparenza di follia ma per la massa il povero signor cooper fu irrimediabilmente uno spauracchio non poteva andare per la strada con animo tranquillo tanto chiaramente vedeva che i buoni e i timidi scantonavano per evitarlo e che gli altri consideravano una prova di coraggio mettersi sul suo cammino l'impertinenza di costoro lo costrinse a rinunciare alla sua abituale passeggiata verso il cimitero all'ora del tramonto poiché mentre si appoggiava pensoso al cancello sempre dietro le pietre tombali vi erano facce che spiavano il suo velo nero corse voce che fosse stato lo sguardo dei morti ad allontanarlo da quel luogo soffriva fino al più profondo del suo benevolo cuore nel vedere che i bambini fuggivano al suo approssimarsi interrompendo i loro giochi più allegri quando la sua melanconica figura era ancora molto lontana la loro istintiva paura gli fece sentire più di ogni altra cosa che un orrore soprannaturale era intessuto nei fili del suo crespo nero in verità era noto che gli stesso provava per il velo un'antipatia così forte che non passava mai volentieri davanti a uno specchio né si chinava a bere a una calma fonte per non essere spaventato della propria immagine riflessa nel suo placido seno fu questa avversione a dar credito alla voce che la coscienza del signor cooper lo torturasse per qualche grave delitto troppo orribile per essere del tutto nascosto o per essere rivelato in modo meno oscuro così da sotto il velo nero dilagò nella luce del sole una nube un'ambiguità di peccato o di dolore e avvolse il povero parroco in modo che né amore né simpatia poterono giungergli mai più si diceva che spiriti e demoni si intrattenessero con lui sotto quel velo camminava continuamente nella sua ombra fra il proprio raccapriccio e il terrore altrui brancolando oscuramente nella sua anima o guardando attraverso uno schermo che colorava la sua tristezza il mondo intero perfino il vento che non conosce legge diceva la gente rispettava il suo terribile segreto e non sollevava mai il velo pure il buon signor cooper continuava a sorridere triste lungo il cammino ai palli di volti della folla intenta alle cose terrene fra tanti influssi malefici il velo nero ebbe il solo effetto desiderabile di rendere colui che lo portava un efficientissimo sacerdote con l'aiuto di quel suo emblema misterioso poiché non vi era in apparenza altra causa e gli ottenne un forte ascendente sulle anime angosciate dal peccato le persone da lui convertite lo consideravano sempre con un loro particolare timore e affermavano sebbene solo in senso figurato che prima di essere condotti verso la luce celeste erano stati con lui dietro il velo nero quell'ombra in vero lo rendeva atto a comprendere tutti i sentimenti tenebrosi peccatori in punto di morte chiamavano ad alta voce il signor cooper e non rendevano l'ultimo respiro finché egli non compariva anche se mentre egli si chinava a sussurrare la sua parola consolatrice essi sempre fremevano nel vedere quel viso velato così vicino a loro tale era il terrore del velo nero anche quando la morte aveva ormai scoperto il suo volto tranieri lungivano da molto lontano per assistere al servizio divino in quella chiesa col solo frivolo scopo di vedere la persona del pastore poiché era loro proibito di guardarlo in viso ma molti fra di essi prima di andarsene avevano tremato una volta durante l'amministrazione del governatore belcher il giovane cooper fu incaricato di tenere il sermone dell'elezione coperto dal suo velo nero egli stette al cospetto del primo magistrato del consiglio e dei rappresentanti e produsse un'impressione così profonda che le misure legislative di quell'anno furono improntate al carattere tetro e alla pietà dei primi governi dei nostri antenati in tal modo il signor cooper trascorse una lunga vita irreprensibile negli atti esteriori eppur avvolta in cubi sospetti era affabile affettuoso sebbene non amato e vagamente temuto un uomo separato dagli altri uomini che lo evitavano finché erano sani e felici ma lo chiamavano sempre in aiuto nelle angosce della morte col passare degli anni che sparsero la loro neve al di sopra del nero velo la fama del parroco si diffuse in tutte le chiese della nuova inghilterra ed egli fu chiamato il padre cooper quasi tutti i suoi parrocchiani di età matura al momento della sua nomina erano stati portati via da molti funerali egli aveva una congregazione in chiesa e un'altra ben più numerosa al cimitero e dopo aver lavorato fino a così tarda sera e assolto così bene la missione venne anche per il buon padre cooper il momento di riposare alla luce della candela velata si intravedevano parecchie persone nella camera in cui moriva il vecchio pastore parenti non ne aveva vi era decorosamente serio sebbene non commosso il medico solo per cercare di alleviare le ultime sofferenze del paziente che non poteva più guarire vi erano i diaconi e altri membri della sua chiesa eminenti per la loro pietà vi era anche il reverendo signor clark di westbury un giovane sacerdote pieno di zelo accorso a pregare al capezzale del pastore morente vi era l'infermiera non un'apprezzolata ancella della morte ma colei il cui calmo affetto aveva durato fino a quel giorno nel segreto nella solitudine tra il gelo della vecchiaia e non si estingueva nemmeno nell'ora della morte chi mai se non elisabetta e la testa canuta del buon padre hupper gioseva sul cuscino nel suo letto di morte col velo nero sempre avvolto intorno alla fronte e che gli scendeva giù sul viso e ogni più difficile anelito del fievole respiro imprimeva un fremito durante tutta la sua vita quel pezzo di crespo era rimasto teso fra lui e il mondo lo aveva separato dalle serene amicizie dall'amore della donna tenendolo chiuso nella più triste delle prigioni il proprio cuore e ancora copriva il suo volto come per incupire l'ombra della sua camera tetra e fargli schermo dalla luce sfolgorante dell'eternità già da qualche tempo la mente del reverendo hupper era confusa e vacillava dubbiosa fra il passato e il presente quasi liberandosi ad intervalli dell'incognito del mondo avvenire erano stati accessi febbrili che lo avevano fatto agitare nel letto consumando le poche forze che gli restavano e pur negli sforzi più convulsi e nei più folli vaneggiamenti dell'intelletto quando nessun altro pensiero poteva più calmarlo egli mostrava ancora una timorosa ansia di non lasciarsi sfuggire dal volto il velo nero ma anche se la sua anima confusa avesse potuto dimenticare vi era al suo capezzale una donna fedele che volgendo altrove lo sguardo avrebbe coperto quel volto annoso che l'aveva contemplato per l'ultima volta nell'avvenenza della virilità infine il vecchio morente giacque tranquillo nel torpore della mente del corpo sfiniti il polso batteva impercettibilmente e il respiro si faceva sempre più debole se non quando un soffio lungo profondo e irregolare parte preludere al distacco del suo spirito il pastore di waspuri si avvicinò al letto venerabile padre cooper disse il momento della vostra liberazione è prossimo siete pronto a sollevare il velo che separa il tempo dall'eternità il padre cooper si limitò a rispondere con un debole moto del capo poi temendo forse che il significato del suo assenso fosse dubbio si sforzò di parlare sì sussurrò con una voce fievole l'anima mia attende con paziente l'assegnazione che questo velo sia sollevato e vi sembra conveniente riprese il reverendo clark che un uomo così dedito alla preghiera che ha sempre dato così reprensibile esempio santo nelle azioni e nei pensieri per quanto è dato ai mortali di giudicare vi sembra conveniente che un padre spirituale lasci sulla sua memoria un'ombra che potrebbe oscurare una vita così pura io vi prego venerabile fratello non permettete che accada una cosa simile consentiteci di essere allietati dalla vostra espressione trionfante mentre andate verso la vostra ricompensa prima che sia sollevato il velo dell'eternità lasciate che io allontani questo velo nero dal vostro volto e così dicendo il reverendo clark si chinò per svelare il mistero di tanti anni ma con un'improvvisa energia che lasciò stupefatti tutti i presenti padre cooper trasse rapidamente le mani da sotto le coperte e le appoggiò con forza sul velo nero deciso a resistere se il pastore di westbury avesse voluto lottare con un moribondo mai anzimò il sacerdote velato sulla terra mai vecchio tenebroso esclamò il reverendo clark spaventato con quale orribile delitto sull'anima vi accingete a presentarvi al giudizio divino il respiro di padre cooper si fece faticoso e gli gorgogliò giù in gola ma con uno sforzo potente annaspando con le mani egli si aggrappò alla vita e la trattenne finché non pote parlare riuscì perfino a sollevarsi nel letto e rimase così tremante tra le braccia della morte col velo nero sempre abbassato terribile in quel momento supremo tra gli accumulati terrori di un'intera esistenza pure il debole malinconico sorriso che gli era stato così familiare sembrava tralucere dall'oscurità del velo e aleggiare sulle labbra del padre cooper perché tremate solo dinanzi a me esclamò volgendo il viso velato sulla cerchia dei presenti impalliditi ognuno tremi anche dinanzi all'altro è soltanto per il mio vero nero che gli uomini mi hanno evitato le donne non mi hanno mostrato nessuna pietà e i bambini hanno gridato e sono fuggiti davanti a me che cosa se non il mistero che esso simboleggia oscuramente ha reso questo pezzo di crespo così terribile quando l'amico rivelerà il più profondo del suo cuore all'amico e l'amante all'amata quando l'uomo non fuggirà in vano lo sguardo del suo creatore custodendo disgustosamente il segreto del suo peccato allora soltanto giudicatemi un mostro per il simbolo sotto il quale sono vissuto e muoio mi guardo intorno ed ecco su ogni volto un velo nero mentre gli ascoltatori si ritraevano l'uno dall'altro con mutuo spavento padre hupper ricadde sul cuscino cadavere velato con un debole sorriso sulle labbra sempre velato lo composero nella vara e velato lo portarono nella tomba l'erba di molti anni è spuntata e appassita su quella tomba la pietra che la chiude è coperta di musco e il viso del buon signor hupper è polvere ma terribile è ancora il pensiero che esso si sia decomposto dietro il velo nero 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 il velo nero